Dopo due mesi le Marche, da lunedì 26 aprile, torneranno in zona gialla. Mancava solo l'ufficialità arrivata dalla cabina di regia e da un post del presidente della regione, Francesco Acquaroli. Me lo ha confermato il ministro Speranza, scritto su Facebook. L'RT è a 0,69 e si continua ad assistere ad un calo dei ricoveri dei pazienti covid, scesi di altre 21 unità nelle ultime 24 ore, passando a 575. Dimezzato il numero delle terapie intensive, che un mese fa erano 146 e che oggi sono 70. Ma cosa cambia da lunedì? Diverse le novità contenute nel nuovo decreto riapertura, a cominciare dagli spostamenti. Sarà consentito muoversi verso altre regioni gialle, mentre chi sarà munito della certificazione verde potrà spostarsi anche in zona arancione o rosse. Questo pass si ottiene con la vaccinazione e l'avvenuta guarigione da covid, oppure con il tampone molecolare o rapido con esito negativo nelle ultime 48 ore. Dal 1 maggio, poi in zona gialla e arancione, sarà possibile andare a trovare amici o parenti in un'altra abitazione privata in 4 persone al posto di 2, con minori di 18 anziché 14. In merito alle scuole, sempre in zona gialla, la presenza alle superiori sale oltre il 70%. Si torna sui banchi anche nelle università. I ristoranti saranno aperti a pranzo e cena fino al coprifuoco delle 22, purché all'aperto. Riaprono al pubblico cinema, teatri, sale concerto, live club composti a sedere preassegnati e a una distanza di un metro l'uno dall'altro. La capienza massima consentita è pari al 50% di quella massima e comunque non superiore a 500 spettatori al chiuso e mille all'aperto. Sempre da lunedì sarà assicurata l'apertura al pubblico dei musei. Sarà consentito anche lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di contatto, di via libera pure al calcetto tre amici. Sempre in tema di sport, dal 15 maggio riaprono le piscine all'aperto, dal primo giugno sarà invece il turno delle palestre e la riapertura al pubblico per le manifestazioni sportive con una capienza consentita pari al 25% e comunque non superiore a mille spettatori per gli impianti all'aperto e 500 per quelli al chiuso. Si dovrà attendere il 15 giugno per le fiere e dal primo luglio ripartiranno invece convegni e congressi. In quella data anche i centri termali e i parchi divertimento potranno riaccogliere gli ospiti.